Maggio il mese Mariano si conclude a Torre del Greco con un evento felice sia per la cultura sia per l'arte del nostro territorio. E' stata restaurata infatti la statua della Madonna di Costantinopoli grazie all'intervento del Rotary. Proprio tra le iniziative che contraddistinguono l'opera del Rotary Club di Torre del Greco c'è quello di restaurare e riportare agli antichi splendori l'antico borgo di Santa Maria e quindi la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli e in questo caso la statua di Santa Maria di Costantinopoli. Non è il primo intervento, già negli anni passati abbiamo finanziato e provosto delle iniziative per restaurare parti della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli che purtroppo va sottolineato, va versa in uno stato veramente di degrado molto accentuato e quindi sarebbe indispensabile avere delle altre iniziative che vadano in un senso più ampio. rendendo i dublice prima quella di riportare all'origine, allo splettore originale questa statua l'India che diciamo sia la tradizione che un po' la leggenda cerca di identificare come una statua che è stata trovata dai barilai in mare e l'abbiano riportata a Torre del Greco. Poi un'altra leggenda invece dice che un corsaro di Torre del Greco, Maldacena, l'abbia diciamo sottratta ai pirati saraceni che a loro volta l'avevano sottratta invece dei vascelli cristiani. Quindi c'è questo alone di mistero, di leggenda su questa statua che è stata riportata a Torre del Greco ed è stata allocata nella cappella privata dei Carafa che originariamente era l'impianto originale della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. Quella chiesa e questa statua rappresentano proprio l'identità di un popolo che ha sempre combattuto, si è sempre riboccato le maniche dopo le disgrazie e noi nel nostro territorio di eventi naturali disastrosi ne abbiamo avuto tantissimi, ma proprio la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è risultata il denne dalle eruzioni in mani che si sono susseguite nei secoli e quindi anche questo è un simbolo in effetti di rinascita per combattere e ricominciare dopo il destino. La statua è stata al momento esposta nella Basilica di Santa Croce, ci sarà un evento per celebrare questo restauro? Il restauro si è concluso appena venerdì scorso e quindi proprio per concludere, come lei diceva, il mese mariano, la statua è stata immediatamente posta a fianco dell'altare della Basilica di Santa Croce per riportarla alla devozione, al culto dei fedeli e restituire un'opera d'arte all'intera comunità. Questa statua, che ha richiesto mesi di lavoro da parte di un'equip di restauratori altamente qualificati e con la supervisione dell'architetto Fidanza e della sovraintendenza che ha curato tutti gli aspetti diciamo di questo restauro, è stata posta adesso nella Basilica di Santa Croce, a breve sarà fatta proprio la consegna ufficiale all'intera popolazione con anche la pubblicazione di un opuscolo che io in questo momento ho in prova, che è questo opuscolo che abbiamo realizzato per poter anche ripercorrere quello che è stato il percorso sia della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli ma anche dei tesori che tuttora sono conservati della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli che tuttora sono conservati nella Basilica di Santa Croce e che ci auguriamo a presto possono ritrovare la loro giusta collocazione.